Buongiorno, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Oggi in apertura di questo telegiornale ci occupiamo di cronaca perché alle prime luci dell'alba la sezione operativa della DIA di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione domiciliare locale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti dell'ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti e di sua moglie Monica Paolino, attuale consigliere regionale. Il primo servizio di oggi. La sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, nuovamente all'assalto, questa mattina alle prime ore dell'alba, i uomini della DIA hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione domiciliare locale emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti dell'ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti e della moglie Monica Paolino, consigliere regionale di Forza Italia. L'ambito investigativo rientra nell'operazione Sarastra che di recente ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale di Scafati per infiltrazioni della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica è emesso lo scorso 27 gennaio con cui è stata affidata per la durata di 18 mesi la gestione del Comune alla Commissione straordinaria. Come è noto, Aliberti e la moglie sono indagati per scambio elettorale politico-mafioso. Nel corso della perquisizione a casa della coppia sono stati acquisiti anche supporti informatici. Come si ricorderà, nelle scorse settimane la Suprema Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso proposto da Aliberti contro la decisione del Tribunale di Riesame che chiedeva nei confronti dell'ex primo cittadino di Scafati e degli altri indagati un provvedimento di custodia cautelare in carcere in ordine ai reati contestati ed in particolare per le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Scafati tenutisi nel 2013. La Suprema Corte, pur ritenendo significativo il quadro probatorio, ritende necessario un supplemento di motivazione per l'applicazione della misura cautelare rinviando così gli atti al Tribunale di Salerno, sezione di Riesame, bocciando di fatto l'ipotesi di carcerazione avanzata dalla Direzione Distrittuale Antimafia. Ora, in attesa di una nuova pronuncia del Tribunale di Salerno, si registra questo supplemento di indagini. E voltiamo pagina, ci occupiamo ora di politica, a circoli del Partito Democratico al voto in vista delle primarie. In provincia di Salerno, netta affermazione della mozione Renzi che si è attestata al 77,34%. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, al 12,41%, mentre il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al 9,97%. Ancora più netto il risultato nel capoluogo, Renzi si attesta al 93,44%, Emiliano al 4% ed Orlando al 2,5%. Facciamo la ricostruzione di quanto accaduto ieri in questo servizio. E' guerra di cifre dentro il Partito Democratico, balla soprattutto il dato dell'affluenza alle votazioni dei circoli e di conseguenza le percentuali cambiano a seconda della fonte di riferimento. L'ex premier Matteo Renzi, stando alla sua mozione, sarebbe vicino al 70%, staccando nettamente il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che avrebbe il 25%, e Michele Emiliano, al quale viene attribuito un risultato intorno al 6,5%. Dati che, pur mantenendo inalterati classifica e distacchi rispetto alle previsioni della vigilia, sono stati contestati dalle altre due mozioni. Secondo l'organizzazione del Partito Democratico, con i dati raccolti dall'organizzazione, ovvero circa 4.000 circoli, le tre mozioni hanno ottenuto rispettivamente Matteo Renzi il 68,22%, Andrea Orlando il 25,42%, Michele Emiliano il 6,36%. Una parola fine. L'organizzazione DEM prova anche a metterla sull'affluenza, altro terreno di scontro tra i tre aspiranti candidati alle primarie. L'affluenza al voto degli iscritti al partito per i congressi scrutinati, annuncia il PD, è compresa tra 235.000 e 250.000 persone. Numeri in netto contrasto con i dati che i comitati di Emiliano ed Orlando hanno snocciolato. Secondo Orlando, lui si attesta al 29,6%, Renzi al 62,4% e Emiliano all'8%. Mentre il governatore della Puglia si dice convinto di aver superato ragionevolmente la fatidica soglia del 5% che gli consentirebbe di prendere parte alle primarie vere e proprie, puntando poi la sua attenzione sulla scarsa partecipazione. Dalla generale al particolare. In provincia di Salerno, così come in tutta la campagna, la mozione Renzi ha sbancato, toccando picchi di poco inferiori all'80% nel comune capologo, ma attestandosi in generale, sempre in provincia, intorno al 75%, lasciando le briciole ad Emiliano, trascinato dal deputato Simone Valiante, e al guardia Sigilli Orlando. E dopo aver fatto un'analisi di questo quadro generale di ieri, andiamo a commentare l'esito dei voti con il segretario provinciale del PD, Nicola Landolfi, che abbiamo in collegamento telefonico. Segretario, buongiorno. Buon pomeriggio. Dunque, allora, Landolfi, i militanti hanno dimostrato, nonostante gli strappi, gli screzzi che ci sono stati negli ultimi tempi, che il leader del PD debba continuare ad essere Matteo Renzi. Sì, mi pare che il verdetto degli iscritti della base del PD sia poco discutibile, c'è un consenso molto alto nei confronti di Renzi, ovviamente adesso ci saranno le primarie del 30 aprile con questo meccanismo bizzarro che è il congresso nazionale del nostro partito che ci fa votare due volte. Però diciamo che il primo turno, quello aperto solo agli iscritti, è andato molto bene per Renzi. Ecco, c'è in particolare un comune della provincia dove si è avuto una percentuale anche più alta rispetto alla media? Sicuramente il comune di Salerno e la città di Salerno credo che sia una delle città italiane dove si è registrata la percentuale più alta nei confronti di Renzi, soprattutto per quanto riguarda i comuni capoluogo. Poi mi pare che il voto e il consenso nei confronti di Renzi sia stato piuttosto omogeneo, salvo dove sono maggiormente presenti i deputati che hanno sostenuto Emiliano e Orlando, nel caso di Orlando la Piana del Sele perché c'è l'On. Cuomo, nel caso di Emiliano il Cilento perché c'è Simone Variante. Per il resto la percentuale in provincia di Salerno per Renzi è altissima, è del 77%, vuol dire che il dato dal punto di vista territoriale è assolutamente omogeneo. Mi fa piacere anche il dato più generale, quello della partecipazione. Quasi 9.000 iscritti su 10.500 hanno partecipato alla convenzione provinciale, quindi alla convenzione dei circoli e questo è un segnale positivo di partecipazione. Scattando dunque questa fotografia mi pare di capire che c'è un clima abbastanza positivo, quindi tutto dovrebbe procedere regolarmente verso la fase che poi porterà le primarie di fine aprile. Sì, adesso si celebrerà la convenzione provinciale in tutta Italia, ci saranno queste convenzioni provinciali mercoledì prossimo che designeranno i delegati alla convenzione nazionale, però è evidente che l'appuntamento è quello del 30 aprile quando insieme al segretario nazionale si voterà anche per le liste che saranno candidate ai tre competitors, chiamiamoli in questo modo. Quindi siamo impegnati sia come segreteria provinciale, soprattutto la commissione provinciale per il congresso, a organizzare l'appuntamento del 30 aprile sperando che vada tutto bene. Bene, ringraziamo per questo suo intervento il segretario del Partito Democratico Nicola Landolfi, grazie ancora per queste sue precisazioni, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché ci occupiamo ora di salità, un appello affinché si possa prevedere l'assunzione immediata di almeno 50 infermieri e 50 os per evitare una drastica riduzione dei posti letto per l'estate. La RSU, dall'azienda ospedaliera di Salerno, questa mattina nel corso di un incontro presso l'ospedale di Via San Leonardo, ha lanciato un appello per scongiurare difficoltà nell'assistenza sanitaria. Sentiamo. La stagione estiva è ormai alle porte, ma non si profila alcuna soluzione per integrare il personale dell'azienda ospedaliera di Salerno che già oggi lavora in condizioni di affanno. Lo hanno sottolineato questa mattina i rappresentanti sindacali del Ruggi di Salerno nel corso di una conferenza stampa, presentando allo stesso tempo una lettera aperta al governatore della Campania, ai consiglieri regionali, al presidente della quinta commissione, al sindaco di Salerno e al presidente della conferenza dei sindaci. Un appello affinché si possa prevedere l'assunzione immediata di almeno 50 infermieri e 50 os per evitare una drastica riduzione dei posti letto per l'estate. Noi abbiamo indetto la conferenza stampa stamattina dopo aver atteso gli sviluppi per l'applicazione dell'atto aziendale regolarmente deliberato a livello regionale. Quello che stiamo vedendo e che ci sta facendo estremamente preoccupare è che dopo l'adozione dell'atto aziendale pare che niente sia cambiato, non solo, ma che le cose siano addirittura peggiorando. L'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, con altri quattro presidi annessi, quindi sono cinque presidi, è un'azienda di nuova istituzione, come dice la parte regionale, con un nuovo protocollo con l'università, ma che parte gravata da debiti degli anni precedenti. Noi dovremmo restituire alla regione Campania 38 milioni di euro in tre anni, nonostante i risultati di efficacia e di efficienza raggiunte dal 2015 in poi e non abbiamo la possibilità di assumere il personale sia necessario per l'attività ospedaliera sia necessario per le attività universitarie, non solo, ma la carenza estrema di alcune figure, in particolare operatori sociosanitari, figure fondamentali di supporto e di infermiere, ci mette nelle condizioni per quest'estate, se non si fanno interventi immediati di reclutamento, nelle condizioni di chiudere almeno 200 posti letto, con quello che questo significa per dei pronto soccorsi già obberati. Vogliamo ricordare alla cittadinanza che nel pronto soccorso del Ruggi ne facciamo circa 350 accessi al giorno e questo con la chiusura di posti letto significherebbe arrivare a 500 accessi al giorno senza avere la possibilità di avere posti letto dove ricoverarli e quindi già i pazienti rimangono a pronto soccorso 24-48 ore e anche tre giorni alcune volte per mancanza di posti letto. Voi avete lanciato questa allarme alla cittadinanza, sono dati però che ovviamente il direttore generale Cantone conosce bene, che cosa potrebbe fare? Il direttore generale potrebbe assumersi una responsabilità personale nell'assunzione almeno di 50 OSS e 50 Invermieri, visto che abbiamo fatto tutte le procedure, teniamo le graduatorie degli avvisi a tempo determinato, teniamo le graduatorie delle mobilità interregionali, sia per Invermieri che per OSS e anche per altre figure, ma chiediamo soprattutto alla Regione Campania, quindi al subcommissario che è rimasto o al nuovo commissario se verrà deciso, al governatore della Regione Campania, di autorizzare l'assunzione del personale necessario a mettere in condizione questa azienda di funzionare e di evitare ai cittadini di Salerno più disagi rispetto a quelli che già tengono. Non solo, chiediamo la cancellazione dei debiti oppure che vengano gestiti in maniera diversa, che non gravino su questa azienda e che i presidi annessi che noi abbiamo preso, che ci sono stati dati, vengono trattati con dignità nell'ambito delle funzioni che hanno e ci riferiamo a Castiglione, ci riferiamo ad approcci dall'unica riabilitazione pubblica e ci riferiamo al mercato Sanseverino. E la situazione non migliora in Custiera Amalfitana dopo il declassamento del presidio di Castiglione di Ravello in un punto di primo soccorso. Per giovedì pomeriggio è stata organizzata una manifestazione di protesta in piazza ad Amalfi. Una manifestazione di protesta per contestare il provvedimento adottato dalla Direzione Sanitaria Aziendale dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno che ha trasformato dal primo aprile il presidio di Castiglione di Ravello in un punto di primo soccorso, non più in grado di garantire le prestazioni 24 ore su 24 per carenza di personale. È stata programmata per giovedì 6 aprile alle 16.30 nella piazza municipio ad Amalfi. Stiamo assistendo al declassamento di quel poco che abbiamo conquistato negli anni. Così Andrea Cretella, presidente del comitato locale del Tribunale del Malato, in merito al depotenziamento della cardiologia e della radiologia dell'ospedale Costa d'Amalfi che dal primo aprile scorso, a causa della mancanza di personale, garantirà durante le ore notturne soltanto tramite la trasmissione telematica dei dati dei pazienti alla centrale operativa dell'ospedale Ruggi d'Aragona. Una sostituzione tecnologica delle mansioni del cardiologo di guardia che non convince gli abitanti della costiera. In realtà siamo ritornati 30 anni indietro, quando in costiera amalfitana non c'era l'emergenza sanitaria e quindi abbiamo vissuto momenti terrificanti con la perdita di tante persone che si poteva evitare. Poi dobbiamo dire grazie all'ex governatore Bassolino che ci ha dato quella struttura, una struttura efficientissima per far fronte ai problemi dell'emergenza sanitaria in costiera amalfitana. Oggi tutto è cambiato, dal primo aprile ci sono nuove disposizioni, Castiglione di Riavello è stato declassato. Sì, ancora una volta abbiamo dovuto subire con un atto monocratico la decisione di persone che probabilmente non si rendono conto del problema dell'emergenza sanitaria in costiera amalfitana in considerazione della viabilità e della situazione morfologica. Due anni fa ci hanno tolto la chirurgia d'urgenza. A distanza di due anni ci tolgono la cardiologia e ridimensionano il servizio della radiologia che funziona solo dalle ore 8 del mattino alle 16.30 del pomeriggio. Quindi un presidio ospedaliero che invece di potenziarsi come previsto dalla zona disagiata riconosciuta a tempo fa con atto deliberativo regionale invece di potenziare viene depotenziato. Oggi quali sono le prestazioni offerte? Le prestazioni offerte sono semplicemente pari a una medicheria non più pronto soccorso dove praticamente ci sono le figure principali per far fronte all'emergenza sanitaria. E a proposito di sanità al via la campagna di prevenzione è dedicata alla salute maschile promossa dalla CNA di Salerno e dalla sezione provinciale della Lilt con il patrocinio del comune di Salerno. Da oggi per l'intero mese di giugno parte infatti prevenzione con i baffi Dai un taglio alla paura l'iniziativa per sensibilizzare gli uomini sull'importanza della prevenzione che vedrà come portavoce i barbieri e i parrucchieri per uomo associati alla CNA di Salerno. Un percorso azzurro tutto al maschile per monitorare la salute degli uomini è la campagna di prevenzione dedicata promossa dalla CNA di Salerno e dalla sezione provinciale della Lilt con il patrocinio del comune di Salerno. Da oggi per l'intero mese di giugno parte infatti Prevenzione con i baffi Dai un taglio alla paura l'iniziativa per sensibilizzare gli uomini sull'importanza della prevenzione che vedrà come portavoce i barbieri e i parrucchieri per uomo associati alla CNA di Salerno. Saranno loro infatti a somministrare ai propri clienti il questionario formulato dalla Lilt attraverso il quale rispondendo a 15 semplici domande verrà stabilito se c'è o meno bisogno di una visita specialistica. Ad effettuarla saranno i medici della Lilt che già dal pomeriggio di oggi presso la sede provinciale della CNA trasformata per l'occasione in un attrezzato ambulatorio si metteranno al lavoro in base ai risultati emersi dai primi test. Stamani a Palazzo di Città la presentazione dell'iniziativa che ha visto la partecipazione del presidente CNA di Salerno Sergio Casola per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori la sezione provinciale di Salerno il presidente Giuseppe Pistolese e l'urologo della Lilt Antonio Brando. Un progetto semplice io lo definisco semplice ma straordinario perché per la prima volta nel mondo delle imprese si ragiona di prevenzione in modo fattivo cioè gli artigiani che diventano testimonial di questa prevenzione e questo ci riempie di gioia perché in un periodo in cui si parla di periodo poco felice si pensa poco a se stessi si pensa all'impresa si pensa ai problemi che ci sono e si tralascia a quello che poi è la base primaria della vita cioè stare bene stare bene con se stesso ma proprio fisicamente stare bene. Le recenti indagini ci dicono che le malattie sessualmente trasmesse l'ipofertilità la denatalità e ahimè l'incidenza di tumori sono in aumento il maschio per tradizione poco incline poco attento a questa osservazione la Lega Tumori e il CNA di Salerno offrono in questo trimestre che va da aprile a giugno di poter attenzionarsi sul proprio stato di salute verrà consegnato nei saloni di acconciatura maschile un test di autovalutazione anonimo e da qui un punteggio chi vorrà potrà richiedere una valutazione clinica gratuita presso gli ambulatori da Lega Tumori Si inizierà proprio oggi e si andrà avanti per i prossimi giorni? Proprio così oggi inizieranno i pionieri gli addetti ai lavori gli acconciatori maschili i quali saranno poi i protagonisti della sensibilizzazione al problema sempre più giovani necessitano di questo tipo di valutazione a luce del fatto che la famosa visita medica militare oggi ormai è non più in uso pertanto è possibile anche da una semplice valutazione intercettare problematiche serie Un'occasione anche per sensibilizzare i giovani le donne sono brave nell'autopalpazione non è così invece per i maschietti Certo, anche questo il tumore del testicolo e la neoplasia maschile è più frequente tra la seconda e terza decada in questa occasione offriremo magari anche la possibilità di imparare all'autopalpazione dello scroto che è una metodica ahimè sconosciuta la donna fa prevenzione la donna è il miglior testimone anche della salute maschile pertanto non solo degli acconciatori maschili ma anche chi vorrà leggendo il sesso presso i loro saloni potranno eventualmente invitare i propri partner ad una valutazione clinica in tal senso E voltiamo pagina l'alta velocità arriva nel Cilento a giorni l'ufficializzazione dell'accordo tra Regione e Trenitalia tappe a Sapri ad Agropoli il risultato è oggetto di uno scambio di battute al vetriolo tra l'assessore al turismo Matera e il presidente del parco Pellegrino sentiamo io penso che forse il parco debba pensare un po' più a fare a fare meno delibere di indirizzo e delibere un poco più concrete volte la risoluzione di problemi seri che esistono sul territorio il problema del turismo con serietà lo stiamo affrontando e sono convinto che attraverso queste iniziative riusciremo a fare in modo che il cilento possa raggiungere i risultati migliori Corrado Matera assessore regionale al turismo non le manda a dire e dalla bit di Milano ricorda il presidente del parco Tommaso Pellegrino di occuparsi dei problemi concreti del territorio al centro del faccio a faccio a distanza tra i due esponenti politici del vallo di Diano l'alta velocità che per la prossima stagione estiva potrebbe essere una realtà per il territorio cilentano ci sono delle trattative in corso tra la regione Campania e Tranitalia l'accordo è certo al 99% manca solo l'ufficialità che potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì ebbene in merito Matera tiene a ricordare a Pellegrino che se i trani dell'alta velocità arriveranno nel Cilento sarà merito unicamente della regione Campania la precisazione dell'assessore regionale al turismo arriva dopo la nota stampa diffusa nei giorni scorsi dal presidente del parco dove Pellegrino ricordava la delibera approvata dal consiglio direttivo nello scorso mese di ottobre per sollecitare gli amministratori regionali in primis il governatore De Luca alla riattivazione del metro del mare e ai collegamenti veloci dell'alta velocità ho letto ho letto qualche giorno fa una dichiarazione anche del presidente del parco che diceva assumeva una posizione quasi come se l'iniziativa fosse partita da lui ma su questo argomento le posso dire che sto lavorando insieme alla giunda De Luca sto lavorando dal 2016 sull'accordo con Trenitalia Matera non si sbilancia ma dalla BIT di Milano tiene a ribadire che guardi allora la richiesta che è stata presentata ed è stata presentata dall'ente provinciale per il turismo che lei sa è un ente che fa riferimento all'assessorato al turismo va dall'11 giugno al 17 settembre il sabato e la domenica e che ha appunto una funzione di movimentazione turistica poi è stato a questa manifestazione di interesse al risposto Trenitalia ha formulato una proposta che si sta si è valutata è chiaro che però ci sono degli adembimenti tecnici che vanno rispettati da sud a nord della provincia di Salerno ci spostiamo ora a Cava dei Tirreni dove già alle 7 di questa mattina gli operai della ditta incaricata dalla Procura della Repubblica sono al lavoro per procedere alla demolizione dell'immobile di via Contrapone in località Pioppi quasi in contemporanea l'occupante rimasta senza casa ha deciso di accamparsi nel latro di Palazzo di Città per far sentire la propria voce e richiamare l'attenzione soprattutto del sindaco Servalli già alle 7 di stamane gli operai della ditta incaricata dalla Procura della Repubblica sono al lavoro per procedere alla demolizione dell'immobile di via Contrapone in località Pioppi in queste ore si sta andando avanti con la rimozione di alcune parti dell'immobile di fatti restano in piedi soltanto le mure esterne dell'edificio già acquisito al patrimonio comunale e dichiarato di prevalente interesse pubblico dal comune metelliano per destinarlo a finalità di housing sociale a nulla però sono valsi numerosi tentativi del comune di salvare l'immobile dall'abbattimento la Procura della Repubblica è stata inflessibile nonostante è stata già fissata per il prossimo 11 aprile la discussione dell'incidente di esecuzione chiesto dal comune dinanzi alla Corte di Appello di Salerno per cercare di scongiurarne la demolizione intanto stamane la signora Pina Fariello rimasta senza casa ha deciso di accamparsi nell'atrio del palazzo di città per far sentire la propria voce la casa è una casa comunale dove io dovevo pagare 10.000 euro di arretrati dal 2014 e in più dovevo pagare circa 300 euro di fitto al mese era una casa acquisita al patrimonio comunale non di Pina Fariello in questo momento la Procura si è messo contro il sindaco la mia protesta oramai la casa sta a terra non è più recuperabile però la mia protesta è che la Procura il comune conoscono benissimo le case abusive che ci stanno devono abbattere dalla prima all'ultima casa non è giusto che c'è gente che ha costruito e vive tranquillo sereno anche dipendenti comunali vigili polizia ispettori che sono venuti a casa a fare i prepotenti avendo case abusive a questo punto quello che io voglio è che Cava dei Tirreni venga a Rasa sono 2.500 case abusive e non è che se ne fa una alla volta avvenesse la Ruspe avvenesse chitta tutta Cava dei Tirreni a terra e voglio dire ai cittadini che non stanno venendo il comune deve pagare l'abbattimento verranno tassati di altre tasse non se ne stessero dentro perché il comune le tasse le mette ai cittadini sembra aprirsi una nuova stagione difficile sul fronte di abbattimenti nella città metelliana dove sono centinaia le case sulle quali incombe l'incubo della demolizione in questa guerra aperta tra il comune e la procura che contesta le delibere con le quali il consiglio comunale destina a finalità di housing sociale questi mobili abusivi nuovi sviluppi potrebbero riguardare anche altre situazioni bene ed ora è il momento di dare spazio alla regia per la pubblicità continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale a tra poco e andiamo avanti con il nostro telegiornale Gabbani super ospite della 21esima edizione del Meeting del Mare l'evento che ogni anno propone concerti gratuiti per i giovani cilentani con il vincitore del Festival di Sanremo c'è una trattativa in corso ad annunciarlo e il direttore artistico Don Gianni Citro tra gli altri nomi spicca anche quello di Fabrizio Moro ed Enzo Avitabile sentiamo ce ne parla il nostro corrispondente potrebbe essere Gabbani il super ospite della 21esima edizione del Meeting del Mare con il vincitore del Festival di Sanremo c'è una trattativa in corso ad annunciarlo ai nostri microfoni il direttore artistico Don Gianni Citro ieri mattina presso il Cineteatro Ferrari di Sapri si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento durante la quale il parroco organizzatore dell'Akermes ha svelato i primi ospiti dell'appuntamento che si svolgerà quest'anno tra Sapri e Marina di Camerota si comincia il 30 aprile nella cittadina del Golfo di Policastro con il rapper Luque cantante napoletano ed ex componente del gruppo musicale rap il giorno seguente appuntamento al Cineteatro Ferrari ancora a Sapri con la musica di un altro artista partenopeo Enzo Avitabile dal primo al 3 giugno invece la carovana si trasferisce nella sua sede naturale a Marina di Camerota tra i nomi dei cantanti quelli che si esibiranno in queste date anche quello di Fabrizio Moro a fine luglio dal 28 al 30 luglio la chiusura della Kermes nuovamente a Sapri super ospite dell'ultima serata potrebbe essere proprio Gabbani Il Meeting del Mare ha una missione quella di mettere in circolo altre visioni del mondo e perciò insomma quest'anno insisteremo moltissimo anche a Marina il primo giugno ci sarà un musicista splendido che si chiama Bombino è originario del Niger è un Tuareg e suona il rock per questo ha anche pagato un caro prezzo perché il rock negli ambienti fondamentalisti islamici è ritenuto una musica satanica e lui in maniera coraggiosa con un gruppo di suoi amici gira il mondo dal deserto del Sahara gira il mondo e porta il suo rock la musica è del mondo è insavvitabile in questo un grande maestro insomma lui napoletano parla napoletano scrive napoletano ha portato Napoli nel mondo e il mondo a Napoli grazie alla musica un grande contenitore tanti contenuti insomma le riflessioni che arriveranno dal meeting del mare partiamo da Sapri lo abbiamo detto arriviamo a Marina di Camerota per insomma le date di Camerota dove è partito il meeting poi torniamo nuovamente a Sapri dopo gli eventi di Camerota insomma i nomi in programma usciranno a giorni chiediamo anticipato sì probabilmente ci sarà anche Fabrizio Moro ci sarà lo scrittore Henry De Luca e con il canzoniere grecanico Salentino insomma ci saranno delle cose interessanti e a Sapri ma c'è una trattativa aperta con Gabbani e e con altri insomma però al momento preferisco non dire così insomma mi sono confidato con la televisione ma ancora non c'è niente di definizione che abbiamo fatto ad alta voce le posso fare questa domanda è maturato il meeting sta maturando il meeting la formula è invariata rispetto al primo anno al di là delle tappe insomma in altre piazze del Cirento ma sta maturando è maturato ma il meeting sta diventando un adulto è a 21 anni insomma sta diventando un adulto e ogni tanto mi arrivano notizie da parte di persone insomma il meeting era meglio prima e io penso a volte che sono loro che sono diventati più vecchi insomma e no il meeting sta maturando in molti sensi soprattutto sta mettendo radici sempre più profonde nel territorio sta entrando sempre più in confidenza con le comunità e quindi è un evento che appartiene sempre di più alla gente grazie è stata invece già definita una tratta stradale di golosità via Pietro del Pezzo nel popoloso quartiere a Salerno dove ieri sera celebrando i 50 anni di attività della pasticceria svizzera la famiglia Cuofano ha inaugurato un nuovo showroom cake il candy shop un ingrosso e dettaglio tutto dedicato ai prodotti di qualità per pasticcerie cake design 50 anni di passione dolci e torte un anniversario significativo per la famosa pasticceria svizzera di via Pietro del Pezzo di Domimi Cuofano che nel compiere i primi 50 anni ha tagliato ieri un nastro speciale per celebrare due generazioni a pochi passi dalla pasticceria in via Pietro del Pezzo al civico 33 un nuovo showroom cake candy shop un ingrosso e dettaglio tutto dedicato ai prodotti di qualità per pasticceria e cake design un nuovo spazio tutto dedicato agli amatori del settore della pasticceria che vogliono dilettarsi nell'arte del cake design e modeling ieri sera il taglio del nastro ha la presenza di tantissime persone che hanno voluto condividere l'anniversario di mezzo secolo una storia iniziata per Domimi Cuofano fin da adolescente in pasticceria poi la partenza per la Svizzera per lavorare in un hotel realizzando prima il pane poi dolci 50 anni di permanenza per mettere insieme un po' di soldi con il sogno di rientrare in Italia un anniversario significativo per nostro padre hanno dichiarato i fratelli Rosaria Anna, Carlo e Daniela Cuofano una passione la sua che non tramonta come la nostra pronti oggi ad affiancarci in una nuova esperienza lavorativa punto di riferimento del quartiere Torrione grazie anche alle innovazioni proposte negli anni dai dolci tipici svizzeri alle paste della domenica arrivando oggi alle originali torte semifreddo con il punto vendita Candy Shop tutto dedicato alle decorazioni a quanti vogliono mettersi in gioco con le mani in pasta si potrà trovare tutto ciò che occorre per realizzare torte e dolci vari qui si trova tutto quello che occorre per le torte per gli appassionati insomma della pasticceria per gli esperti del settore possono trovare prodotti per torte per dolci sia ad ingrosso che a dettaglio ecco un nuovo posto soprattutto per le signore che amano fare i dolci in casa per preparare i dolci per le feste si troveranno tante decorazioni ma ci sarà anche la possibilità di imparare il cake design sì daremo la possibilità di faremo dei corsi organizzeremo dei corsi quindi c'è la possibilità per appunto per appassionati del settore di esprimersi sia con il cake design e poi magari organizzeremo anche proprio dei corsi di pasticceria insomma sicuramente faremo anche questo proprio con le mani in pasta un nuovo centro dove acquistare prodotti di qualità non mancheranno i cioccolatini ovviamente tutti di produzione della Svizzera rigorosamente artigianali sì ci sono i nostri cioccolatini artigianali avremo dei fondenti fondenti monorigine uova decorate adesso per il periodo pasquale soggetti pasquali uova nocciolate uova al pistacchio uova mandorlate al pistacchio al gianduia al cioccolato bianco insomma c'è da scegliere ed ora voltiamo pagina il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica alla pagina degli appuntamenti c'è da scegliere a scegliere a scegliere a scegliere alle 19 e alle 22 ingresso intero 6 euro ridotto 5 euro per informazioni www.cineteatrosanemetrio.it 089-2204-89 andiamo ti divertirai te lo prometto la salernitana ha conquistato dunque a Pisa la quarta vittoria consecutiva ma ne parliamo tra poco subito dopo la pubblicità guardando insieme anche prima le previsioni del tempo ne parliamo nel corso della pagina dello sport tra poco in collaborazione con Salerno Trasporti 20 anni di esperienza nel settore trasporti e logistica distributiva una rete capillare di collegamenti che copre tutta l'Italia da nord a sud siamo in grado di movimentare merci in tutto il mondo garantendo al cliente il più elevato standard di spedizioni espresse iura Salerno Trasporti e anche packaging realizziamo imballaggi per spedizioni in massima sicurezza per prodotti ed oggetti anche di grande valore a Salerno a Salerno in via venner zona industriale salernotrasporti.it previsioni del tempo previsioni del tempo e siamo dunque e siamo dunque alla pagina dello sport ci occupiamo di calcio la Salernitana ha conquistato a Pisa la quarta vittoria consecutiva riuscendo per la prima volta nella sua storia ad espugnare il campo di nero azzurri toscani decisivo Rosina entrato nella ripresa Granata a due punti dai playoff a nove gare dalla fine sentiamo e sono quattro la Salernitana ha infilato a Pisa la quarta affermazione di fila portando a casa tre punti d'oro col minimo scarto grazie ad un'altra prova quasi perfetta in fase difensiva dalla gara di Benevento in cui subì gol sul rigore Gomi sta mantenendo inviolata la propria porta la Salernitana sta volando in classifica 13 punti nelle ultime cinque partite quattro vittorie di fila senza subire gol ed anche a Pisa è arrivata la conferma che la scuola di Bollini abbia acquisito maggiore consapevolezza di sé e soprattutto abbia raggiunto una sicurezza e un equilibrio tali da potersi permettere il lusso di attendere il momento propizio per colpire senza dover sbuffare e faticare più di tanto e dunque senza doversi scoprire concedendo pochissimo ad un Pisa che per sua natura è sfittico in fase offensiva in realtà hanno colpito proprio nel momento in cui i toscani di Gattuso hanno provato a fare qualcosa in più se inizialmente la scelta di Bollini di inserire Giova Silva in attacco non aveva convinto ha invece pagato quella di buttare nella mischia Rosina a metà ripresa in luogo del portoghese l'ex Bari ha subito sfiorato il gol maltrattando col destro un pallone delizioso che gli era stato raccapitato da coda ma si è rifatto subito dopo sul colpo di testa del centroavanti infatti si è fatto trovare pronta la stoccata a due passi ancora una volta col destro e non ha dato scampo al portiere avversario oltre che per il gol segnato con il suo ingresso in campo Rosina è stato decisivo anche perché ha permesso a Sprocati di trasferirsi sulla corsia sinistra dove ha letteralmente cambiato marcia incenerendo con le sue sgruppate Mannini e dando quella viltadità e quella incisività alla manovra che non era riuscito a garantire fin quando aveva occupato la corsia destra dell'inedito tridente Granata solida compatta tosta brutta nel senso migliore della parola in quanto capace di contrastare sul piano agonistico il Pisa senza vergognarsi di sparacchiare qualche pallone lontano alla sua area se necessario la Salernitana ha strappato una vittoria pesante nel complesso meritata su un campo mai violato prima di sabato e questo rende ancora più gustosa l'impresa altro scambetto di Bollini e Sued un grande ex perché dopo Breda pure Gattuso è stato sconfitto in casa propria lo scacco matto al ringhio sotto la torre è stato il segnale di una crescita globale che è ancora in atto e che ha portato la Salernitana dei confini e la zona rossa ad un passo da quella playoff col Cittadella l'ennesima prova del 9 e nella rimonta in classifica della Salernitana ci sono molti meriti di Alberto Bollini il tecnico mantovano ha dato tranquillità ed identità tattica al gruppo ed ora si gioca la qualificazione ai playoff nelle ultime 9 giornate di campionato domani sera alla Reiki arriverà il Cittadella Bollini potrebbe apportare qualche variazione nella formazione di partenza San Nino li aveva abbracciati e portati sotto la curva a sud della Reiki lui li ha battuti a domicilio Alberto Bollini ha guidato la Salernitana a due pesanti affermazioni esterne contro l'entilla di Breda e il Pisa di Gattuso che hanno permesso e granata di calare un poker di successi sul tavolo di un campionato che dopo la sconfitta interna con la SPAL sembrava dovesse riservare altre delusioni e sofferenze che dopo le ultime cinque gare in cui hanno conquistato 13 punti li vede in piena corsa per i playoff in apparenza quella della Salernitana è una vera e propria metamorfosi perché i numeri e le prestazioni delle ultime cinque giornate indurrebbero a pensarla così come sempre però la verità sta nel mozzo e dunque la versione più plausibile per spiegare la rinascita primaverile di una squadra che era riduce da un inverno grigio con pochi isolati bagliori potrebbe essere questa la Salernitana aveva intrapreso con Bollini un percorso nuovo quanto lungo e difficile perché doveva scrollarsi di dosso anzi l'insicurezza della precedente gestione e perché il nuovo allenatore doveva avere il tempo necessario per capire ed anche per sbagliare perché proprio dagli errori commessi in prima persona che si apprende di più e più velocemente Bollini è stato intelligente ed attento ed ha capito come dovesse essere gestito Rosina ad esempio ha trovato l'assetto migliore in difesa ed ha soprattutto fatto sentire tutti importanti ci sono giocatori che giocano di più ma nessuno si sente escluso Zito Tuia Sprocati hanno atteso il loro momento ed hanno trovato spazio quando lo hanno meritato umiltà sacrificio spirito di gruppo così Bollini ha plasmato la Sardinitana concepita in estate senza un progetto ben preciso facendola diventare squadra e dunque capace di andare a ulti propri limiti e di sfruttare i suoi pregi ora i playoff sono ad un passo ma come sempre proprio quando il traguardo si avvicina c'è bisogno di dare ancora di più e al tempo stesso di mantenere la calma domani alla Rechi arriverà il Cittadella forse l'avversario peggiore che potesse capitare non solo per i precedenti in cadetteria che non sono le migliori ma anche perché tra quelle che lottano per i playoff è la squadra che ha meno pressioni e può giocare con maggiore spensieratezza Bollini potrebbe rinunciare a Perico e rimpiazzarlo con Bittante sull'otto destro difensivo mentre Mediana Ronaldo dovrebbe riprendere posto in cabina di regia in attacco code il punto fermo Rosina cerca posto anche se un sutilizzo part time potrebbe essere più proficuo in partenza il tridente potrebbe essere completato da Donnarumma e Sprocati tutti però potranno dare il loro rapporto e lo farà anche il pubblico trittetto di 10.000 per la gara con l'Ascoli anche domani sera la Rechi sarà carico e gremito per spingere la Sanitana ancora più in alto ora è il momento della verità e come ama ripetere Bollini tutti sono importanti in campo e fuori quando io vi ho sempre detto che non ci sono mai dei bocciati in chi non parte dal primo minuto la dimostrazione è di Rosina che è entrato al di là del gol preziosissimo ha fatto una prestazione molto positiva nell'atteggiamento e nelle abilità ecco perché io parlo sempre di titolare in corsa e parlo di un gruppo che ha recepito molto bene questo messaggio e infatti la competitività ha alzato anche la possibilità delle scelte da parte mia a proposito di corsa mister la Sanitana a questo punto non si può nascondere correre verso i playoff sono a due punti di distanza beh intanto abbiamo corso molto bene molto forte per distaccarci da una zona che a Salerno non è molto coda e non la vivi neanche tanto bene sportivamente parlando quindi nelle statistiche mancherebbero tre punti prima li facciamo meglio è che significa anche essere a due punti dai playoff e quindi di nuovo con equilibrio la realtà nostra da equip da gruppo e da lavoro a questo punto siamo lì vicino viviamoci alla giornata e se la condizione è questa e lo spirito del gruppo è questo è giusto anche pensarci e torna questa sera come di consueto alle 20.45 l'appuntamento del lunedì con Zona Mista la trasmissione condotta da Marcello Festa ospiti in studio Alberto Pacifico il direttore sportivo Uriel Maccardi Eugenio Marotta e Massimo Grisi da casa sarà possibile interagire come sempre con lo studio lasciando commenti o domande sull'apposito link oppure inviando semplicemente un sms al 3-3-3-13 21-919 e Lega Pro invece Domenica Mara per la Paganese uscita sconfitta per 3-1 dalla trasferta sul campo del Foggia contro la capolista c'è stato poco da fare per la squadra di Grassadonia Satanelli semplicemente più forti trascinati da un mazzeo in grande spolvero di Cicerelli nel finale il gol della bandiera per la Paganese che mercoledì tornerà in campo per ospitare il Fondi contro questo Foggia insomma bisogna fare i complimenti a questa squadra perché è una squadra che meritatamente prima in classifica noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare ci abbiamo provato siamo venuti a Foggia tenendo in grande considerazione questa squadra avendo massimo rispetto e abbiamo cercato di cambiare qualcosina perché questa è una squadra che va affrontata ripeto con la grande attenzione è peccato aver subito gol troppo presto però ripeto ai miei ragazzi non posso dire niente bisogna dare meriti al Foggia le difficoltà che affrontano tutte le squadre e anche quelle importanti è una squadra che è meritatamente in vantaggio è una squadra che è completa che ha tutto adesso ha grande autostima qualità tecniche qualità caratteriali qualità fisiche allenata molto bene quindi ripeto siamo venuti a fare la partita che dovevamo fare magari non avessimo preso gol così all'inizio però ci sta insomma noi dobbiamo guardare avanti è una sconfitta sulla quale lavoreremo e cercheremo di guardare avanti ma è un vantaggio ragguardevole perché i punti sono sette non sono sei quindi bisogna ripeto dar merito al Foggia ma allo stesso tempo sono convinto che questa è una squadra che dopo tanti anni di costruzione adesso ha un grande vantaggio e cercherà di rimanere sempre concentrata perché il cammino è ancora lungo ho avuto il piacere di giocarci 25 anni fa e sono cresciuto qui e ho fatto due anni ed è sempre un piacere tornarci insomma questo sì e continueremo a sfogliare insieme la pagina dello sport ma diamo ancora spazio alla regia per la pubblicità tra poco ed ora ci occupiamo di basket perché è andata alla capolista Angelico Biella il match della 27esima giornata del Girone Ovest del campionato di Serie A2 contro la Givova Scafati alla Biella Forum la prima della classe ha fatto valere il proprio superiore tasso tecnico ed ha approfittato al meglio delle assenze tra le fila gialloblu di Naimi Metreveli e Dobbins per imporsi e conquistare i due punti in palio alla società scafatese che ha subito molto soprattutto al rimbalzo 49 contro 28 resta la consapevolezza di dover faticare ancora tanto per conquistare la salvezza provando a vincere i restanti tre turni di campionato con la determinazione e la concentrazione che ha contraddistinto le recenti positive prestazioni 85 a 69 il finale per i piemontesi che si confermano al primo posto mentre la Givova resta in penultima posizione soffre Suda ed infine vince la Iommi Salerno supera invece in trasferta Teramo con il risultato finale di 25 a 21 e prosegue la sua corsa in betta alla classifica del torneo di massima serie di palla a mano femminile dopo una partenza lanciata dalla capolista Teramo reagisce il 7 allenato da coach Massotti ricuce pian piano lo strappo il risultato recita 9 a 5 per la Iommi Salerno quando mancano 8 minuti alla fine della prima frazione di gioco la prima frazione di gioco si chiude con la Iommi Salerno avanti con il risultato di 13 a 9 nel secondo tempo Capitan Coppola e compagne provano nuovamente a prendere il largo e si portano sul 18 a 12 quando sono trascorsi 15 minuti del secondo tempo Teramo rientra nuovamente in partita accorciando pian piano il divario con le avversarie il punteggio recita 22 a 20 quando il cronometro segna il minuto numero 25 la Iommi Salerno tiene comunque duro e alla fine porta a casa la 23esima vittoria su altrettante gare disputate superando il Teramo con il risultato finale di 25 a 21 e ci occupiamo nuovamente di calcio ma puntiamo i nostri fari sulla serie D perché torna al successo anche la Cavese che esulta in pieno recupero un guizzo di Gabrielloni stende il Castrovillari e regala tre punti agli Aquilotti sentiamo senza pubblico senza quattro titolari tra infortuni e squalifiche ma con un grande cuore la Cavese ha ritrovato la vittoria dopo circa un mese e mezzo al Simone Talamberti è stato piegato il Castrovillari con un gol all'ultimo minuto realizzato da Alessandro Gabrielloni 14 gol per il centravanti marchigiano dall'inizio del campionato bravissimo il giocatore a sfruttare l'assist di Giglio si giocava a porte chiuse per decisione del giudice sportivo ma era necessario ritrovare il feeling con la vittoria in qualunque condizione e il risultato di 1 a 0 per quanto esiguo è stato fondamentale perché ha permesso alla Cavese ripassare al secondo posto nel girone I mentre i Castrovillaresi hanno perso un punto che avrebbe permesso loro di restare attaccati alla zona play-out Di Maria l'allenatore dei Lupi del Pollino schiera il Castrovillari inizialmente con un 3-4-3 con Molina Ferraco e Ragosta in attacco per la Cavese giocano Riccio e Galullo in difesa al posto di Parenti e Migliaccio squalificati come pure il centrocampista Ciarcià in cabina di regia agisce Gianna Tasio per la prima volta titolare in campionato al posto dell'infortunato Di Deo arbitra il signor stampatori della sezione Aia di Macerata nella fase iniziale della gara la Cavese appare tesa del resto riscattare la sconfitta patita sette giorni prima a fratta maggiore non è facile ma qualche conclusione i metelliani riescono a provarla dopo due minuti di gioco va al tiro all'eruzzo ma la palla è facilmente presa da De Brasi al dodicesimo Celiento riesce a ripartire su assist di Gianna Tasio ma il suo tiro è deviato in angolo da un difensore castrovillarese pressano anche i calabresi ma hanno meno qualità rispetto ai campani nel servire le punte cosicché l'ultimo passaggio da parte dei rossoneri risulta spesso sbagliato al minuto 36 Rossi uno dei più attivi della Cavese si inserisce su passaggio di Celiento ma trova il salvataggio in angolo di Russo sugli sviluppi dello stesso corner è Padovano che va alla conclusione da distanza impressionante ma De Brasi salva il tempo si chiude con un quasi autogol di Simonetti sul tiro dalla bandierina di Rossi la palla va sulla parte alta della traversa nella ripresa la Cavese gioca la carta della prima punta Giuseppe Giglio che affianca Gabrielloni in avanti e proprio il centroattacco siciliano appena entrato si libera del marcatore ma finisce per calciare la palla oltre la traversa da buona posizione i biancoblu osano di più inserendo in campo Bellante e anche Felleka però si espongono al contropiede calabrese a un minuto dal novantesimo c'è superiorità numerica in attacco per il Castrovillari e Opoku si ritrova in area campana ma sul nigeriano è bravissimo Felleka a recuperare la posizione sembra debba finire 0-0 ma nel corso del quarto e ultimo minuto di recupero segna Alessandro Gabrielloni cross da lontano di Loreto sponda di Giglio e sfondamento dell'attaccante Marchigiano per l'1-0 che sa di liberazione la Cavese vince e va al secondo posto Castrovillari terz'ultimo Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale io mi fermo qui al momento non ci sono altri aggiornamenti in ogni caso vi rimando all'edizione della sera delle 19.30 buon proseguimento di giornata e grazie come sempre veramente vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti